Possiamo riscrivere la storia Non potresti occuparti dei ragazzi per qualche giorno? Assolutamente, tutto quello che vuoi Grazie, sei fantastica Alla salute, bon voyage Dice che rimarrà qui con noi finché lo vorremo Ho l'impressione che cerchi qualcosa in più È tutto perfetto per te, amore mio Per il ciclo nel segno del giallo Sì, è presa In prima visione assoluta, ti ruberò la vita Questa sera, alle 21, Rai 2